Vediamo un po'... dobbiamo andare un po' più giù... un po' più giù... Tipo qua... Tipo qua... Sì, wow... Calci! Maledetto! Ok, beh... Diciamo, siamo nel posto giusto... Dobbiamo... Sono nella centrale secondaria... Trova il pannello di controllo e aziona l'interruzione, così riavvierai il sistema! Ok... Fuori il primo... Apriamo quella cassa... Che c'ho di buono? Progetto elettroaffettatrice... Plastica la prendiamo... Il caffè ce lo prendiamo... Eh... Attiviamo acquageneratore... Prato! Bene! Ora devi fare la stessa cosa nell'altra centrale secondaria! Beh! Pezzi di metallo... Chiodi... Chiodi... Ok... First Aid... La Garza... Eh... Inventario... Intanto creiamoci... Le caffette... Le caffette... Come si chiamano? Eh... Progetti... Inventario... L'elettro... I Grimaldelli... Creiamo il Grimaldelli... Ok... Mi voglio creare un Medikit... Eh... Poi posso creare qualche altra cosa... Il Bacio Inglese... Eh... Arma di Mischia... No... Elettroaffettatrice... I Pitardi... No... Armi da Lancio... Molotov... Eh... Ok... Inventario... Tubo semplice... Mo... Shuriken... Va bene... Petardi la torcia... Inuso... 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 Gamba del tavolo... Ce la possiamo fare da meno... Eh... Cambia col tubo semplice... Eh... Tubo del gas... Va bene... Andiamo... Vabbè niente... Andiamo a trovare... L'altro punto... Scusate... Uno... Voglio lo Shuriken... Così... Per provarlo... Ma... Riposati... Va... Pianta... Pianta... Ok... Minchi... Ne vedo uno... Bruttissimo... La sotto... Che io eviterò... C'è proprio... Molto pacificamente... Ma... Appa... Chi è quello blu? Rifornimento aereo... Rifornimento aereo... Quasi quasi... Tanto... Andiamo qua... Cavolo... Ok... Scassina... Facile... Allora... Giro il Grimaldello... Ed è uno... Ed è due... Tre... Io odio... Scassinare... C'è... Non... Non... Non me la fido... Dai... Andiamo a vedere... Quello che è precipitato... Mappa... Eh... Mappa... Mi fai arrampicare... Si arrampica... No... Non si arrampica... Ok... Ok... Che è brutto... Bruttissimo... Ehm... Non è stata una grandissima idea... E infatti... Mappa... L'uogo segnalato... L'uogo segnalato... Ehm... Andiamo così... Ehm... Andiamo così... Oh... Andiamo... Bruca... S... Scappa... 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 arma inefficace chi ha colpo scappa 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 ok ho attivato la luce elettrica solo per quel motivo però basta basta non ti dico più niente ti dico proprio più niente ok vediamo no non mi interessa più sei vicino al rifugio o rendino sicuro cioè per rendere sicuro significa fai pure quello cioè questo mi viene in mente ah è la sopra il rifugio forse va bene va bene grazie a tutti grazie a tutti